Un fazzoletto di seta, un orologio, un anello, un fermasoldi d'oro senza soldi, e un telefonino. Qualcuno mi ha ricordato che una volta ho detto che l'amidità era una cosa buona. Ora sembra diventata legge. Per quanti soldi posso fare, signor Gecko? Non sarà mai davvero ricco. Perché non inizi a chiamarmi Gordon?